Nervi è stata la mia salvezza perché quando ero disoccupato io andavo a Nervi e sai cosa dicevo? Il mio slogan lo sai? Nervi a posto. Pocca terra, Nervi a posto, tutti i giorni. Pocca terra, Nervi a posto, sempre per 25, 30 o 40 giorni. Nervi a posto. Il Museo di Sant'Agostino è lieto di ospitare la terza mostra fotografica di Guerrino Pocca terra. Quest'anno nel mare magnum delle sue foto abbiamo selezionato tre parti, una relativa alla sua nativa Copparo, paese amatissimo da Guerrino in provincia di Ferrara dal quale ha preso le mosse la sua lunga vita. Guerrino è del 1915 e arrivarci come lui a 98 anni. Eravamo sette fratelli con nomi particolari, tutti i nomi che si vede che mio papà e la mamma avevano una certa cultura perché la mia prima sorella si chiama Iride, poi c'è Carmen, poi c'è Uripide, poi c'è Pietro, poi c'è Luciano e poi ci sono io che non mi piace il mio nome perché sono contro tutte le guerre e mi ha messo il nome Guerrino, ma che Guerrino, non mi piace. Vabbè, comunque lo porto con soddisfazione perché è dato da mio papà e da mia mamma. Un'altra è dedicata a Genova, città nella quale abita da decenni e che ama. Di Genova mi piace tutto, il mare, le montagne, la gente, gli operai, le donne sono discrete, sono belle, ma sono un po' timide, timide. E altre sono dedicate alle foto di fiori, dei quali lui è sempre stato appassionato e ai vari panorami di città e paesi che lui ha visitato nel corso della sua lunga vita. Sono nato meccanico, ho cominciato col triciclo, poi la bicicletta, poi la moto, poi le auto, poi i cararmati, ma manca solo l'aereo plano, del resto una certa pratica di meccanica ce l'ho, ce l'ho nel sangue. Soprattutto è importante, al di là dell'interesse e della qualità delle fotografie, conoscere un po' la sua personalità, la personalità di un uomo che ha quasi cent'anni e che ha attraversato la storia d'Italia, cercando di essere anche protagonista in una certa misura, partecipando alla rotta partigiana, lavorando, leggendo, documentandosi. E con onestà e passione è arrivato fino a oggi e ancora oggi ci può raccontare e insegnare molte cose. E se non hai una grande volontà, una gran voglia di vivere, di vedere, di sentire, cadi. E cadi, si dice, nell'esaurimento nervoso. Lo chiamano il mio paese. Quando un ragazzo, una donna, cade in crisi, cade per esaurimento nervoso. E non c'è medicina, ce n'è una sola. Il lavoro e il coraggio di reagire.